Ciao! Dunque, gli obiettivi di un riscaldamento sono molteplici. Il primo è quello di mandare il sangue in circolo e preparare il corpo ad un'attività. Quando siamo fermi, il sangue magari è rivolto al nostro intestino, al stomaco, al cervello e vogliamo mandarlo, mandare il sangue di più ai muscoli. Quindi iniziamo a muoverci gradualmente per dire al corpo guarda, stiamo per iniziare un'attività, è bene che i muscoli abbiano a disposizione l'energia e il sangue quindi le energie per essere pronti ad affrontare quell'attività. Questo è sicuramente fondamentale perciò qualsiasi attività ripetitiva e graduale va bene per riscaldarsi. Quindi va bene aver fatto una passeggiata magari un po' in salita, insomma, che ci ha fatto salire un po' la frequenza cardiaca va bene aver fatto una corsetta leggera, va bene aver fatto un giretto in bici però diciamo che queste cose non bastano, ok? Perché è importante nel riscaldamento prepararci all'attività specifica che facciamo. Quindi se è un'attività che prevede dell'attenzione anche mentale e coordinativa è importante anche prepararci da quel punto di vista. Se è un'attività che prevede degli scatti o dei movimenti comunque improvvisi è importante muoverci un po', scaldare diciamo anche la mobilità articolare. Per cui un riscaldamento deve essere di almeno 10 minuti e deve comprendere un po' tutte queste cose. Un po' di attività leggera ripetitiva e un po' di allungamento, mobilità. Non per troppo tempo, basta allungare il muscolo in modo attivo, consapevole quindi anche uno skip questo può essere considerato una sorta di mobilità, ok? O movimenti delle articolazioni in modo attivo, ovvero consapevole cioè siamo noi che le muoviamo e non è la gamba che sta ferma in quella posizione che va anche bene però lo stretching prima di un'attività va fatto per poco tempo diciamo mentre alla fine dell'attività ci si può rimanere per tanto tempo e lavorare proprio sullo stretching. Poi ovviamente dipende sempre da che attività andiamo a fare se ci stiamo preparando a fare le spaccate lo stretching passivo andrà meglio ma se ci dobbiamo preparare al test aerobico che propongo nei miei programmi per la montagna è importante riscaldarsi prima con un po' di movimenti blandi che può essere una corsetta lentissima oppure questo esempio che ora vi faccio vedere intanto iniziamo, vi faccio vedere. Ok, può essere una serie di movimenti sul posto che però coinvolgono anche le braccia perché oltre che a movimenti blandi come la corsetta e altre cose che vi faccio vedere perché utilizzo anche le braccia nei riscaldamenti perché quando muoviamo le braccia il cuore pompando verso l'alto o in orizzontale fatica un pochino di più perché sennò tutte le vene che vanno verso il basso sono aiutate a portare il sangue giù anche dalla gravità oltre che dai movimenti del nostro corpo quindi se noi dobbiamo spingere le mani in su il sangue deve spingere il sangue verso l'alto e fatica il cuore fatica di più perciò mentre facciamo un riscaldamento sul posto a casa è sempre importante inserire dei movimenti con le braccia che potete inventarvi, ok? non è importante che facciate quelli che faccio io ve li potete inventare se sono coordinativi meglio perché ci mettiamo anche un elemento di attenzione mentale che è importantissima in tutti quegli sport e attività quindi praticamente tutti in cui c'è bisogno di attenzione mentale a quello che facciamo quindi ad esempio possiamo fare questo un braccio avanti e un braccio fuori e continuare intanto a fare la colzetta un braccio in alto e un braccio fuori e adesso uno avanti e uno alto quindi questo quando iniziano a bruciarci un po' le braccia non dovrebbero farci male le spalle quindi possiamo abbassarle un attimo continuando invece la parte del riscaldamento con la parte degli arti inferiori quindi continuiamo la corsetta e possiamo inserire degli esercizi di coordinazione e mobilità come gli skip e le calciate quindi ad esempio possiamo cominciare a fare uno skip basso quindi iniziamo piano piano ad alzare le ginocchia uscitando le braccia skip basso è diverso dallo skip alto lo skip basso salgo poco con le ginocchia mentre lo skip alto salgo tanto quindi all'inizio vogliamo fare lo skip basso perché è importante che il riscaldamento sia graduale dobbiamo anche oltre al sangue attivare gli ormoni e tante cose che poi ci fanno anche avere più voglia di allenarci no? ok quindi facendo questo comunque allunghiamo un pochino i muscoli posteriori e ora invece vogliamo allungare un po' con gli anteriori e facciamo una calciata che appunto è sia un esercizio che comunque ci aiuta ad aumentare a mandare il sangue in circolo e si allunga ogni movimento allunga il quadricipite qua quindi è anche un esercizio di mobilità ok continuiamo la nostra corsetta saltellini ok magari abbiamo adesso riposato un po' le braccia ricominciamo a muoverle magari con delle circonduzioni lavorando anche sulla mobilità delle spalle potete fare da una parte dall'altra oppure uno avanti uno all'altra uno avanti uno indietro con tre apposte di nuovo qui ci mettiamo un elemento di coordinazione che stimola il cervello e lo attiva cambio anche dall'altra parte piano piano dovreste iniziare a sentirvi surriscaldati ok a quel punto quando sentite che tutto il corpo inizia ad essere più caldo perché si scalda perché i processi del corpo sono proprio processi di combustione ok quindi vi prendiamo un una molecola per esempio di zucchero di carboidrato e la trasformiamo in acqua calore e anidride carbonica ok quindi per questo ci scaldiamo ci sono proprio dei processi di combustione nel nostro corpo infatti diciamo che muovendosi si bruciano si brucia ovviamente la combustione non è soltanto dei carboidrati ma anche degli acidi grassi più andiamo a bassa intensità più usiamo gli acidi grassi ma queste sono lezioni di un'altra volta allora quando iniziamo appunto a sentirci bene caldi ci possiamo fermare facciamo dei degli allungamenti però non troppo intensi non dovete starci due minuti basta pochi secondi ok all'inizio dell'attività poi magari alla fine ci state più a lungo quindi in questo modo allungate gli adduttori che è la parte interna della coscia poi possiamo allungare la parte posteriore della coscia andando giù così oppure facendo dei piccoli slanci in questo modo senza strappare troppo il movimento portiamo la gamba in modo attivo lentamente in alto ok e poi possiamo allungare la parte anteriore come abbiamo fatto prima anche in modo passivo quindi così ma per poco tempo quindi allunghiamo il quadricipite possiamo allungare la parte posteriore anche i polpacci stando qualche secondo in questa posizione col tallone a terra e punte dei piedi in avanti e sentiamo che tira il polpaccio poi cambiamo dall'altra parte ok prepariamo le caviglie facendo delle circonduzioni attive questo per è molto importante secondo me e nel frattempo siamo anche in equilibrio su un piede anche questo importante da una parte e dall'altra non serve farlo per troppo ma è importante farlo anche per poco ma lentamente essendo consapevoli del fatto che l'articolazione dovrebbe essere in grado di fare un movimento fluido e non a scatti cambio piede cerchiamo ricerchiamo questo movimento fluido da una parte dall'altra ok le ultime due cose per me molto importanti è almeno un esercizio di attivazione del core quindi potete andare a terra non per troppo tempo va bene anche 30 secondi oppure tre stare da 10 secondi per dire quindi possiamo fare un plank sugli avambracci o sulle mani io non so se c'entro mi sa di no è troppo lunga comunque avete capito plank lo faccio così plank è importante attivare bene quindi consapevoli attivare contrarre bene il core gli addominali ok fare questo movimento qui che è retroversione del bacino quindi mentre siamo in plank dobbiamo fare questo coda fra le gambe immaginate di avere la coda fra le gambe stringere bene qui ok dobbiamo starci poco bastano anche 10 secondi e infine proprio ultima cosa imitare il movimento dello sport che andiamo a fare fare proprio dei brevi movimenti se andiamo a rampicare facciamoci un due passaggi iniziali se dobbiamo fare il test aerobico prendiamo la sedia facciamo andiamo su e giù 5 6 al massimo 10 volte e poi siamo pronti ok spero vi sia piaciuto questo video sul riscaldamento è molto molto importante scaldarsi prima di qualsiasi attività perché se no ci si fa male e poi uno dice lo sapevo però non l'ho fatto ve lo dico perché l'ho fatto anch'io ovviamente però ora lo so perché mi sono fatta male diverse volte durante tutta la mia vita sportiva e quindi so che scaldarsi bene è importante ciao ciao